Ciao, ciao ragazzi. Si presentino tanti gli allenatori e gli allenatori assicurati? Sì, bene, tutti davanti alla camera. Sì, bene, tutti. Sì, bene, tutti. Aspetta, più piccoli avanti. Più piccoli avanti. Adesso belliciamo le macchie che saranno la vostra uniforme per questa settimana. Fatela sporcare di tanto amore, questo uniforme, dei baci, degli abbracci che va bene vi darà. Signori, vendisci queste maglie di oratorio perché gli animatori che le indosseranno possono assumere la tua carne, la tua vita, le tue parole attraverso la loro esistenza. E possono trasmettere la gioia, l'amore, l'armonia, i colori dell'arcobaleno che solo tu sai dare a tutta l'umanità. Impartirò in parte del mondo al cuore dei piccoli e dei semplici a questi bambini che saranno affidati le loro bambini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cari animatori, si avvicini il tempo estivo che sarà per voi occasione bella e grande di impegno, condivisione e spirito di servizio. Questa comunità desidera benedire la vostra esistenza e ringraziare voi e il Signore per i talenti posti in voi, al vostro entusiasmo e alla vostra intelligenza. a fine dei suoi figli più piccoli e prega per voi, perché si avrò di giorno testimoni di una fraternità e di una bellezza che possano fare la differenza. Siete disposti a impegnarvi nel servizio al presto estivo, con spirito sincero e generoso? Sì, lo vogliamo! Siete disposti a trovare il servizio di animatori aiutanti come occasione di crescita e di buon pronto per trasmettere il vostro meglio ai bambini? Sì, lo vogliamo! Siete disposti a confrontarvi con il Dangelo che accompagnerà i passi del Grest e a lasciarvi interrogare dalla parola del Signore che è venuto in un mondo non per farsi servire, ma per servire? Sì, lo vogliamo! Questa nostra comunità accoglie con gioia il vostro sì, vi accompagna ora con l'invocazione dello Spirito, la forza che il Signore ha promesso a quanti desiderano vivere, non per se stessi, ma per i fratelli, e scoprire così la propria vocazione e il proprio costo nella vita. Sì, lo vogliamo! 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 Grazie a tutti. 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 Salvatore D'Angelo, auguri. Francesco Caccavalle, vieni, signore che sta facendo la diretta, vai vedere la maglietta in diretta, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Federica Di Pasquale, Federica Di Pasquale, e qui si ferma tutto. Aguri. Aguri. Vincenzo Santo Paolo. Aguri, Vincenzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anna, Anna Corbino, Anna Corbino, la nostra persona, la figlia della signora Anna, la figlia della signora Anna, Lucia, la figlia della signora Anna. Francesca. 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 Francesca, chiedo scusa. Francesca. Maglio. Anna Landolfo. Anna Landolfo, ecco qui. Aguri. Bella D'Angelo. Bella D'Angelo, attenzione. giuseppe d'angelo auguri poi abbiamo la signora di maniere amelia e raffaella e migliaccio che non sono presenti ma fanno anche loro parte questa grande famiglia dell'oratorio adesso ci diamo la maglia a donna Ernesto aspetta non funziona il microfono donna Antonia Scarano grazie 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 il tema di quest'anno è per tutti quindi vi invito a riflettere per fare gioco di squadra un grande applauso a tutta l'equipe di animazione vi invito viva Dio viva Dio amico adesso andiamo a posto e la celebrazione di prende con il credo credo di un figlio mio e la madre di potenza ben grazie a me il Signore abbiamo finito il mandato e adesso la messa continua ciao ciao una prima c'è la prima di segno Dio da Dio luce da luce più relevo più relevo generato e creato della stessa sostanza nel Padre per me di tutte le cose che sono state create Grazie.